Una ricetta antica e segreta che si tramanda di padre in figlio e che pochi pasticceri e massai ancora conoscono e custodiscono. Manca di fatto solo una firma e la pasta reale di tortorici, dolce secolare, squisitezza, a base di zucchero e farina di nocciole dei nebrodi diventerà presidio slow food. Il prodotto sarà tutelato attraverso un disciplinare già stilato che sarà per i golosi, gli intenditori, garanzia di qualità e provenienza del prodotto. Un risultato reso possibile anche grazie all'impegno dei produttori, dell'assessore all'agricoltura Tony Silla e della deputata Lars Bernadette Grasso che ha sempre puntato alla valorizzazione della nocciola dei nebrodi. Sieme ai miei colleghi devo dire che oggi abbiamo una doppia vittoria, abbiamo raggiunto il presidio slow food e abbiamo raggiunto un'unione che a tortorici non c'è mai stata, infatti spesso i nostri prodotti vengono poco valorizzati proprio perché non c'era questa unione. Unione non che non c'era, spesso non veniva creata e spesso veniva ostacolata. Oggi, voi avete visto, siamo quasi, io dico giovani, anche se giovani non lo siamo più, ma siamo giovani. E questo fatto, questo fatto di essere giovani, di guardare al futuro e voler far crescere il nostro paese ci ha uniti in questo progetto. Sono felicissima perché io non avrei potuto fare nulla da sola, né come presidente del Proloco né come pasticcera. Un momento molto importante per noi che abbiamo creduto sempre in questo progetto e che finalmente è stato realizzato, proprio perché la pasta reale è un dolce tipico, strettamente legato al territorio dei nebrodi. E soprattutto quella particolarità di essere fatta con la nocciola dei nebrodi. Quindi il profumo e le peculiarità che ha la nostra nocciola rende questo dolce unico.